A me è capitato una volta con il mio cane, neanche tanto tempo fa, di entrare, volevo entrare in chiesa, è il parroco della chiesa, non so chi, mi impedì l'ingresso, forse perché non era Don Primo Poggi, Don Primo Poggi ve lo facciamo conoscere, un prete straordinario che ogni giorno recita messa insieme ai suoi tanti amici. Ci abbiamo mandato in spedizione Maria Elena Favi e Gabriella Morandi. Don Primo, lei è il primo sacerdote in Italia a celebrare la messa con i suoi amati cagnolini. Sono convinto che alla messa devono partecipare tutti gli esseri viventi, gli esseri viventi dell'animale all'uomo, perché ogni esseri vivente è un papice di amore di Dio, non ci devono queste separazioni, tutti gli animali devono partecipare. Eccoli. Durante la messa ho visto che sono di una tranquillità, una serenità veramente fantastici, dei suoi figli. Sì, sì, sì. Ma vivono con lei? Sempre, anche le notte vivono con me. Ah, dormite tutti nella stessa stanza? Tutte nella stessa stanza. Di giorno dormono sull'estero, di notte vado a dormire e provano a dormire. Sulla poltrona. No, sì. Qui c'è il dedicato a San Francesco, no? Sì. Io sono cresciuto con Francesco, vengo da un ambiente pontagino, ma con Francesco ho imparato un grande amore per gli animali. Salute le campane, è il loro modo di pregare. E anche se non lo conoscono Dio come noi, però sentono attraverso verso di noi. Sempre con Don Primo, non lo lasciano mai, lo seguono dappertutto, dove lui va, per tutta la giornata. Si amano, si amano per davvero. È una cosa stupenda, perché non hanno la parola, però è come se l'avessero. E viva Don Primo, evviva! Laura, buongiorno. 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 Grazie a tutti